Il tasso di occupazione in terapie intensive di persone con Covid-19 sale al 5,3% in base alla rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 18 novembre rispetto al 4,4% della settimana precedente. Nello stesso periodo il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 7,1% rispetto al 6,1%. Il monitoraggio settimanale sulla pandemia della cabina di regia nazionale consegna il quadro in cui tutte le 21 regioni e province autonome risultano classificate a rischio moderato. Per la Campania, situazione in linea con quella del Paese, con dati migliori per le terapie intensive, sono al 4% e un po' più alto per le degenze che sono all'8. Tutte bianche quindi le regioni, ma il rischio che il dato peggiori nelle prossime due settimane non è escluso. La regione campana ha già fatto un summit con tutti i direttori generali delle aziende ospedaliere, ipotizzando uno scenario che prevede un aumento del contagio del 20% entro fine mese. Una previsione che, se malauguratamente dovesse verificarsi, potrebbe pensare anche sulla rete ospedaliera campana. Nonostante che i dati sono del Ministero della Salute, ad oggi dei 13.217 attualmente positivi in regione, solo 296 sono ricoverati con sintomi, 24 di questi in terapia intensiva. Una condizione che ad oggi consente ancora di non gravare sugli ospedali e di guardare comunque con ottimismo al futuro.